God bless them, help me. God bless them. Perdio. Deeeh. Questa della f*** ho ucciso. Copri, non c'è solo due. Non c'è solo due. Non c'è solo due. Non c'è solo due. Purt. Proteggi i mezzi. Proteggersi da un lato. E' l'azzo. Non combattere. Sono il viceversa. Addio. Doppia. Aia. E' l'elicotter. Ok, sono uccisi. E' un altro. Poi gli elicotteri non so come fa il 3-5. Mi fa il 3-4 che è per... Ezzo. Ah f***. Ok. Ah no. Ci sono due a me qua. Poi mi metto qua sopra. Vedo che vedo. Là. Ok, sta un cecchino là che facciamo subito subito. Tra un po' qua. Tato. Posso stare sulle scala, aspetta. Bello, un'altra allarme. Uno là sopra. Quanti colpi ti servono? Ma dov'hai? Caduto. Uccidilo va. Eh, caduto. Cazzo. Va buon denno? Si. Tre quarti d'ora. Da. Un cazzo di cecchino. C'è l'olfo. Eh, penso ancora. Non c'è più. Quanto ci mette quello a morì? Quanto ci mette quello a morì? Vabbè. Chiamo a Stel. Siiii, sparò il cecchino. Oui, show. Ehm. C'è l'hova. Facciamo. C'è l'hova a Stel. Siiii. Esparò il cecchino. Ui, show. Sìiii. dietro 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 it's No, giù. Pizzù. Post, missione vada. Come scappò. Dai, no, stanno io fuori. Conoscete il vostro scopo, fate ciò che va a fare, conoscete il vostro scrodo. Aperi su della magma, non sarei pronti. Pizza time. Ricordate, a madre natura non interessa chi siete o da dove venite, in linea senza coscienza. Dimmi quando l'hai fatto. Ok. Markur. Bordello. Yeah. Quando adattivare... Ah fuck. Ha sparato in culo. Ma che cazzo fai? Non l'avrei mai detto, più forte. Ok. Copy. Ok. 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 Ok.